Siamo con Andrea Lanza Vecchia della lista Idea Padova e appunto cosa cambiare a Padova? Padova sicuramente è un tema importante ma abusato è quello della sicurezza, ma ritengo e riteniamo che ci siano temi più importanti come lo sviluppo, il benessere di una città, quindi maggiore aiuto al commercio, liberalizzazione degli orari, quindi aiuto ai commercianti e altro aspetto importante è l'aspetto dei trasporti con tutta la tematica della gestione eventualmente della ZTL, del tram e dei parcheggi, quindi sono temi di sviluppo e benessere per la città e non soltanto di sicurezza, tema importante ma non può essere ogni 5-10 anni parlare sempre delle stesse cose, bisogna parlare di positivo, benessere, sviluppo, Padova è una città molto bella, viene disegnata brutta e sporca, non è vero e il messaggio vuole essere un messaggio ottimista che può migliorare in meglio Padova, oltre a quindi ribadisco il tema della sicurezza che è importante ma non può essere l'unico tema della campagna elettorale.